Le voglio chiedere, professore Prado, lei ha visto tanti giovani agrigentini che sono passati attraverso l'Accademia, quindi ha visto se ci sono dei talenti e che talenti sono. Se lei potesse descriverli, come li dipingerebbe questi ragazzi? In effetti diversi ragazzi dell'Accademia di Agrigento hanno avuto del proseguo professionale di un certo livello. Alunni dell'Accademia, l'Accademia ha 40 anni di attività, l'Accademia di Agrigento, fanno di solito gli insegnanti, alcuni sono l'Accademia addirittura di Brera, la più prestigiosa d'Europa, l'Accademia di Belle Arti di Milano di Brera, e in altre accademie molti fanno gli insegnanti, i licei o alle scuole medie e quindi hanno anche un certo risvolto professionale. Adesso l'Accademia è un pochettino più in là, perché si interessa anche di cinema, di televisione, di queste cose, e i ragazzi riescono anche ad ottenere dei posti di lavoro dopo la laurea, sia triennale che specialistica. In poche parole, secondo lei, cosa manca ad Agrigento? Intanto manca la mentalità di fare turismo. Agrigento è ricca di opere d'arte e purtroppo gli agrigentini sono contro gli agrigentini stessi. Noi dobbiamo cercare di cambiare questo stato di cose. Ad Agrigento, mi dispiace dirlo, ma lo dico ad Agrigentino, lo dico veramente con dispiacere, vige l'invidia. L'invidia, purtroppo forse l'abbiamo tutti, forse anche io, è nel nostro DNA. L'invidia è quella cosa che non va a sbocciare ad altri livelli quello che effettivamente si può fare con tutto quello che Agrigento ha. Cosa può fare? Cosa può fare la persona? La persona agrigentina deve cercare di comportarsi come quanto i meridionali. Gli agrigentini vanno al nord o vanno all'estero, quindi non deve fare nient'altro che comportarsi civilmente, rispetto delle leggi, rispetto all'ambiente e non considerare gli enti preposti alla sicurezza, quale può essere la sovrintendenza, l'ente parco, come dei nemici, ma come degli amici che fanno il loro lavoro e quindi vanno rispettati le loro idee e le loro indicazioni.